Stanno procedendo a gran ritmo a Borgomanero i lavori per la realizzazione delle nuove aule per l'Istituto Da Vinci, dopo un momento di rallentamento a causa del ritardo nella consegna del ferro necessario per la costruzione della struttura. Perché si tratta sì di container, ma di ultima generazione che non avranno nulla da invidiare ad altre classi. Li si sta realizzando nel cortile... Abbonati a soli 9,90€ all'anno! Autosalone tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, a piedi mulera.